ben tornate sul mio canale oggi vi propongo questo progettino semplice e alla portata di tutte siccome volevo un poncho un pochino particolare se così vogliamo dire non il classico con ci vuole due punte quindi io ho deciso di fare di fare un po un poncho che ho voluto chiamare poncho goccia di ruggiate perché perché come vedete diciamo sul davanti è tondo mentre se lo giriamo c'è la punta in questo modo è un poncho che ha vari indossi perché lo possiamo indossare così sul davanti e sul dietro c'è la parte sfondata oppure possiamo portarlo in questo modo che la punta ci scende su un braccio su un sul gomito diciamo e quindi è già un altro indosso oppure praticamente la parte tonda la mettiamo avanti e la punta ci scende sul dietro vedete quindi è un poncho un po fuori dagli schemi come ripeto perché non volevo proprio un poncho classico con le due punte volevo un poncho che potevo gestire come più mi piace indossarlo e come ho fatto vedere questo poncho a tre indossi e l'ho realizzato pensate con due gomitoli di filato cordula della staff il le tonalità del viola quindi è un progettino che può fare chiunque è una sorta di punto granny e sul sito dove l'ho preso io questo filato ci sono anche altre sfumature la sfumatura del blu del nero questo viola quindi ognuna di voi può scegliere il proprio colore quindi adesso io vi lascio al tutorial e noi ci vediamo in un altro progettino eccoci qui al tutorial del poncho gocce di ruggiata ho dato questo nome al poncho proprio perché ha la forma di una goccia e praticamente questo poncho l'ho realizzato con soltanto due gomitoli di filato cordula della staff il e l'uncinetto del numero 8 e ho avviato 48 catenelle più una quindi l'inizio del progetto è uguale per tutti il filato è questo io il campione ve lo faccio vedere con il filato sempre della cordula ma alla sfumatura del blu dove praticamente questo filato io l'ho utilizzato per il gilet e per lo scaldacollo adesso sulla cola variante del viola ho voluto realizzare questo poncho eccolo qui quindi ve lo farò vedere con questo filato è un 75 per cento acrilico e 20 per cento la e 25 per cento lana la casa ci consiglia l'uncinetto dal 6 all'8 ed io ho utilizzato proprio l'uncinetto del numero 8 sono gomitoli da 100 grammi per 95 metri ed io per questo progetto ne ho utilizzati due gomitoli ossia 200 grammi quindi voi avviate le 48 catenelle più uno e poi ci rivediamo io lavorerò su un campione allora io ho avviato 25 catenelle sul campione quindi 24 più una adesso chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima catenella di inizio giro e qui facciamo direttamente il nostro aumento perché come ripeto c'è soltanto un aumento quindi facciamo metà aumento allora facciamo una due e tre catenelle che ci equivale come prima maglia alta poi rientriamo nello stesso punto e facciamo praticamente altre due maglie alte per un totale di tre quindi una e due se volete nascondete anche il filo poi una catenella saltiamo una catenella di base e nella successiva facciamo una maglia alta una catenella successiva 2 catenella successiva nascondendo anche il filo 3 quindi catenella saltate un punto e fate 3 maglie consecutive quindi dovete ripetere questo per tutto il giro quindi noi ci rivediamo al termine del giro per completare l'aumento siamo arrivati al termine abbiamo fatto l'ultimo gruppetto facciamo una catenella e andiamo a completare il nostro aumento facendo altre tre maglie alte quindi una quindi due e tre poi invece di fare le 3 catenelle facciamo una mezza maglia alta quindi carichiamo il filo andiamo sulla terza delle 3 catenelle e carichiamo il filo usciamo e chiudiamo e in questo modo ci troviamo direttamente al centro dell'aumento adesso 3 catenelle una due e tre voltiamo il lavoro rientriamo e ripetiamo il nostro metà aumento quindi tre maglie alte quindi una è sostituita dalle 3 catenelle altre due e questo è metà aumento poi una catenella andiamo nello spazio delle della catenelle e facciamo tre maglie alte quindi una due e tre una catenella spazio successivo tre maglie alte quindi una due e tre lavorando in questo modo voi non avete ne dritto nel rovescio perché si lavora un giro ad ogni giro giriamo torniamo indietro quindi non ha un dritto e un rovescio quindi due e tre una catenella gruppetto successivo nella catenella dell'archettino 3 maglie alte una due e tre una catenella gruppo archettino successivo 3 maglie alte quindi una due e tre questo filato è molto bello è molto scorrevole nel lavorarlo io lo lavoro benissimo è anche molto morbido e molto avvolgente e caldo soprattutto perché c'è comunque il 25 per cento di lana quindi una catenella ultimo gruppetto di tre maglie alte nell'ultimo archettino di una catenella quindi una due e tre adesso facciamo la catenella e andiamo a completare l'aumento con tre maglie alte quindi una due e tre e abbiamo completato l'aumento carichiamo il filo entriamo nella terza delle 3 catenelle e lavoriamo la nostra maglia mezza alta quindi chiudiamo e ci troviamo al centro del nostro aumento quindi come vedete il poncio prende questa forma adesso io vi dico i giri che ho fatto io con tre maglie alte e una catenella quindi io ho fatto 1 2 3 4 giri con gruppetto di tre maglie alte separati da due catenelle dopo di che sono andata avanti facendo gruppetti di quattro maglie alte separati da due catenelle quindi ripeto adesso ve lo faccio vedere sul campione aspettate allora quindi adesso per allargare diciamo e far venire tondeggiante la parte dietro come facciamo con gli aumenti lavoriamo in questo modo ci alziamo con tre catenelle voltiamo il lavoro rientriamo e rifacciamo il nostro metà aumento quindi formato da tre maglie alte poi invece di fare una catenella ne faremo due quindi due catenelle e gruppetti di tre maglie alte quindi 1 2 e 3 2 catenelle e gruppetto di tre maglie alte facciamo questo per tutto il giro quindi gruppetto di tre maglie alte separati da due catenelle quindi una e due e gruppetto di tre maglie alte in questo modo facendo gli aumenti in questo modo vi viene con la punta sul davanti che vi scende bene e la parte tonda dietro che non sfarfalla quindi ci vediamo al termine del giro facciamo l'ultimo gruppetto quindi una due tre maglie alte 2 catenelle e terminiamo così il nostro aumento quindi lavoriamo le tre maglie alte quindi una quindi due e tre carichiamo il filo entriamo nella terza delle 3 catenelle e facciamo la mezza maglia 3 catenelle oddio scusate 3 catenelle voltiamo il lavoro e ripetiamo mi raccomando mano a mano che lo lavorate ve lo provate per rendervi conto fin come dovete continuare a fare gli aumenti oppure se potete andare avanti senza più aumentare quindi questo lo dovete provare su di voi quindi adesso per aumentare ancora se avete bisogno una volta che l'avete provato se adesso abbiamo fatto due catenelle andando avanti faremo quattro maglie alte separati dai gruppetti di quattro maglie alte separati da due catenelle quindi abbiamo ripetuto il nostro aumento facciamo le due catenelle e nell'archetino facciamo anziché tre maglie alte ne andiamo a fare quattro quindi una due tre e quattro due catenelle archetino successivo quattro maglie alte una due tre e quattro termino il giro e ci vediamo all'aumento siamo arrivati al termine fatte le ultime due catenelle completiamo il nostro aumento quindi una due tre maglie alte carichiamo il filo entriamo nella terza catenella e lavoriamo la mezza maglia e ci ritroviamo al centro dell'aumento quindi come vedete il progetto è veramente semplice in questo caso potete anche vedere la sfumatura del blu le due sfumature quindi spero che io sia riuscita a farvi capire come fare gli aumenti comunque se volete farlo più lungo del mio vi conviene prendere un gomitolo in più se avete bisogno di aumentare ancora potete aumentare le catenelle anziché due farne tre e i gruppetti anziché di quattro maglie alte ne farete cinque io come ripeto a me lo volevo proprio così quindi con due gomitoli sono andata benissimo perché mi piaceva questa diciamo questa lunghezza io adesso vi do anche la misura in centimetri dalla punta allo scollo allora per quanto mi riguarda dallo scollo alla punta sono 46 cm e per me andavano benissimo però come ripeto ognuna di voi se vuole farlo più grande dovrà prendere un gomitolo in più se vuole la stessa grandezza del mio vanno benissimo due gomitoli e come ripeto io per allargare per ampliarlo non ho fatto altro che aumentare soltanto di una catenella ossia fare fare due catenelle di separazione e gruppetti di quattro maglie alte quindi spero che questo progettino un pochino particolare non proprio classico vi sia piaciuto che vogliate realizzarlo e se così fosse magari farvi farmi vedere le vostre versioni con il vostro colore preferito e mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina così non perdete i prossimi tutorial quindi detto ciò vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo in un altro progettino